Ciao! Eccoci qui, finita una stagione, inizia un'altra e quindi è il momento dei preferiti, che tra l'altro questo genere di video è uno dei video che vi piace di più. Quindi ho pensato di cambiare leggermente il format, perché fino a poco tempo fa lo facevo in modo tale da avere una sorta di scaletta dove vi dicevo un po' di cose che mi erano piaciute nel giro della stagione, che potevano essere podcast, film, canzoni, oggetti, momenti, insomma cose di questo tipo. Ho deciso però, visto che i due generi di video che vi piacciono di più sono quelli un po' più relativi alla sostenibilità e quello dei preferiti, di metterli insieme e di elencare in questo video dei preferiti di tutte cose che sono inerenti alla sostenibilità. Quindi cercherò di dividerlo un po' in tipo in stanze e parleremo principalmente di nuove abitudini sostenibili che ho preso, quindi che sono diventate ormai che fanno parte della mia routine, sempre brand indipendenti e sostenibili, perché comunque un brand non vuol dire che sia sostenibile per il semplice fatto che è fatto a mano piuttosto che è prodotto da un artigiano. Non è detto che lo sia al 100%, quindi io diciamo che cercherò di premiare tutti quei brand e quegli artigiani che oltre ad essere delle realtà piccole lavorano anche in un determinato modo e poi insomma eventualmente scoperte di libri, film, insomma tutto quello che è inerente alla sostenibilità e che mi è piaciuto nella stagione passata. Allora partiamo subito dalla prima stanza, la prima stanza è la cucina. Allora iniziamo con un oggetto di cui ne ho già parlato tantissimo, ne ho parlato sia su Instagram nelle stories, ve ne ho parlato nel video relativo ai must have della cucina a tema appunto sostenibili, però è qualcosa che, diciamo che è la cosa che ho scoperto durante il corso della primavera e che più mi ha entusiasmato e effettivamente mi ha dato un buon, diciamo una buona spinta verso utilizzare, consumare ancora meno qualcosa che è solitamente monouso. Di cosa sto parlando? Sto parlando dei fogli di carta forno riutilizzabili. In commercio ce ne sono di tanti tipi, quelli che ho io e quelli che sto usando e che mi sento di consigliare perché per il momento mi sto trovando benissimo, super, stra, iper, mega utilizzati, sono quelli in teflon. Il vantaggio del teflon rispetto a quelli in silicone è che sono un po' più sottili e sono veramente simili alla carta, quindi si modellano molto più facilmente e anche da utilizzare proprio per rivestire delle tortiere, quindi io questi qui li ho utilizzati per fare il banana bread, per fare le torte, insomma si prestano benissimo per rivestire la pentola di ghisa dove faccio il pane. Quindi si prestano tantissimo anche da questo punto di vista. Il silicone a volte invece è disponibile soltanto in tappetini. E poi vabbè, io a linea generale non sono una grande fan del silicone perché soprattutto lavandolo spesso o comunque utilizzando magari dei cibi un po' più puzzolenti tipo cavolfiore, aglio, cipolla, un pochino secondo me assorbe il sapore poi dopo del detersivo piuttosto che di quello che stiamo utilizzando. Quindi io trovo che questi qui in teflon siano veramente ottimi. Io li lavo in lavastoviglie, li metto in forno, li ho usati appunto per farci cucinarci la qualunque. Piccolo inconveniente o comunque piccola cosa a cui bisogna prestare un pochino più di attenzione chiaramente non si possono tagliare le cose direttamente sopra questo perché appunto si rovina, si incide e poi dopo una volta che è rotto è rotto. Comunque il teflon è lo stesso materiale con cui vengono rivestite le padelle. Anche nelle padelle bisogna utilizzare, non si può tagliare direttamente nella padella perché sennò si incide, si rovina e poi non diventa pericoloso però una volta che è tagliata non è più utilizzabile. Rimaniamo sempre in cucina e questa volta passiamo invece più a una parte in cui si magna. Un'abitudine green che ho preso in primavera perché poi tra l'altro è una stagione anche facilmente che si presta molto a questo è quello di cercare di informarmi su le erbe spontanee commestibili che ci sono nella mia zona e iniziare ad utilizzarle per cucinare. Piccolo disclaimer, mi raccomando fate molta attenzione a quello che raccogliete. Dovete essere non sicuri al 100%, sicuri al 500% che quello che state andando a raccogliere sia esattamente la pianta commestibile, quello che volete mangiare. Quindi informatevi bene, fate delle ricerche, parlate con esperti. Di solito il migliore esperto in questo campo sono gli anziani della vostra zona che conoscono perfettamente le erbe spontanee che si possono mangiare nei nostri boschi e nei nostri campi. Se raccogliete qualcosa e avete dei dubbi meglio lasciar stare perché non si scherza. La primavera ci viene in aiuto perché è un po' più facile riconoscere le erbe spontanee perché appunto le piante magari hanno i fiori e quindi il fiore è una grossa indicazione che quella pianta è effettivamente quella che noi stiamo cercando e non è una similare. E poi ci sono delle piante che sono diciamo un po' più comuni e più facili da riconoscere. Nel mio caso io questa primavera ho raccolto un po' di fiori di sambuco però non ho preso i fiori ho preso i boccioli quindi prima che il fiore venisse si schiudesse anche perché col fatto che c'è stato il lockdown praticamente si sono... ho potuto uscire di... ho potuto... Mio Dio... disiscrivetevi immediatamente a questo canale. Sono potuta uscire di casa soltanto quando ormai la fioritura era già un po' avanzata poi ha piovuto molto e quindi l'ideale sarebbe raccoglierli appena sbocciati senza che le piogge abbiano un po' lavato e portato via un po' di sapore. Quindi io non ne ho trovati tanti nelle mie zone ormai o erano già stati razziati raccolti oppure erano ormai appassiti, un po' bagnati, un po' spavolatini. Quindi ho raccolto alcune boccioli che li ho messi sott'aceto da una ricetta che ho trovato sul blog di Giulia Scarpaleggia, Jules Kitchen vi lascio comunque il link qua sotto, ormai la stagione è passata però magari vi serve per il prossimo anno. Li ho fatti sott'aceto perché io adoro le cose sott'aceto e poi alcuni li ho fatti fritti insieme ai fiori di acacia. Nei boschi della mia zona è pieno di acacia. L'acacia sarebbe la robinia, ecco. Poi questo è stato un altro dubbio che è venuto mentre facevo vedere questa cosa durante le stories perché la pianta, il nome scientifico della pianta è robinia ed è una pianta di origine americana, dei boschi del Nord America se non sbaglio che è arrivata da noi in Europa e ha un po' infestato i boschi a discapito spesso dei castani che invece prima erano molto diffusi dalle nostre parti adesso diciamo che la robinia ha preso il sopravvento perché è una pianta molto resistente è quella che ha delle foglioline tonde e i rami con le spine quindi si chiama robinia però spesso i suoi fiori vengono chiamati i fiori di acacia nonostante l'acacia in termini scientifico botanico sia tutt'altra pianta è una pianta che ha i fiori che assomigliano a quelli della mimosa quindi proprio non c'entra assolutamente niente però se noi ci pensiamo anche il miele di acacia è il miele delle api che prendono il mettere della robinia quindi comunemente quando si parla dei fiori edibili di questa pianta si parla di fiori di acacia nonostante sia la robinia comunque io non li avevo mai assaggiati nonostante sapessi che fossero commestibili li ho provati a raccogliere, li ho mangiati ho scoperto che sono una delle cose più buone che esiste della terra perché hanno un sapore dolcissimo mi dicono che anche il glicine è molto simile al fiore della robinia e anche quello si può mangiare però io quello non ho fatto ricerche quindi prendete questa informazione con le pinze comunque se li fate fritti con una pastella sono buonissime è come praticamente mangiare dei fiori di miele al nettare di miele fritti cioè una delizia altra erba spontanea che ho ripreso dopo che io ho passato l'infanzia a mangiarla perché la mia nonna la cucinava spesso è l'ortica l'ortica mi dicono che in alcune zone si vantano di essere riuscita a debellarla perché comunque anche quella è una pianta spontanea infestante e soprattutto che provoca delle irritazioni notevoli però in realtà l'ortica è buonissima ha un sapore più che altro la consistenza dell'ortica è molto buona diciamo che ha un sapore simile che ricorda vagamente gli spinaci però più saporita e una consistenza molto più carnosa con l'ortica si possono fare tantissime cose io avevo fatto una ricetta dove avevo fatto delle tortine quindi delle specie di mini quiche con l'ortica mi raccomando tra l'altro l'ortica è ancora presente anche tutta l'estate quindi volendo potete tranquillamente raccoglierla senza problemi anche qui informatevi bene sulle caratteristiche della pianta dell'ortica io le avevo dette comunque nel post relativo alla ricetta quindi se volete vi lascio qua il link così potete vederle l'ortica oltre ad essere ottima da essere mangiata quindi è il classico da utilizzare come ripieno nei tortellini, nei ravioli come per fare il risotto come nella pasta, nelle torte salate insomma tantissime ha tantissime implicazioni, utilizzi fa molto bene ed è molto buono anche il suo decotto infatti una cosa che io vi consiglio è quando la bollite perché l'ortica allora innanzitutto vi dovete mettere i guanti per raccoglierla perché sennò rischiate che vi vengano tutte delle irritazioni se non avete le mani diciamo allenate perché ha tutti questi peletti che sono urticanti se la prendete e la lasciate in frigorifero una notte 24 ore non dovrebbe più avere problemi cioè potreste riuscire a manovrarla tranquillamente con le mani perché appunto questo suo effetto urticante passa io per sicurezza io quando l'avevo raccolta l'ho raccolta l'ho lavata sempre utilizzando i guanti si lava molto bene quindi soprattutto con tutte le erbe spontanee a parte i fiori che sono un po' più delicati quindi lì c'è un lavoro un po' più di minuzia per questo genere di erbe fate tanti risciacqui in modo tale da essere sicuri di eliminare tutta la terra tutte le impurità tutti gli insetti perché un po' di insettini ci sono sicuramente perché sono nei campi quindi lavatela molto molto bene eventualmente aggiungete anche un pochino di bicarbonato dopo di che va sbollentata quindi una volta che è stata bene lavata la sbollentate il mio consiglio è di non salare quell'acqua perché poi quell'acqua lì dove avete sbollentato l'ortica l'ortica ve la mangiate la utilizzate per fare quello che preferite quell'acqua lì fa molto bene quindi la potete bere come tisana depurativa insomma ha tantissime proprietà visto che fa caldo io non l'ho mai provato però secondo me non sarebbe male magari diluita un pochino con dell'altra acqua vi fate una sorta di infuso da tenere sempre in frigorifero da bere ogni tanto come per rinfrescarvi allora la cucina direi che l'abbiamo sistemata passiamo adesso a un'altra stanza direi camera guardaroba facciamo una cosa del genere allora volevo aggiungere anche il bagno però nel mio bagno praticamente non è entrato niente di nuovo vi parlerei di soliti sciampi solidi di cui vi ho già parlato largamente quindi lasciamo stare quindi ho deciso di fare una doppia una combo guardaroba guardaroba diciamo con un accessorio e un capo di abbigliamento allora partiamo dagli accessori e parliamo da una delle domande che mi è stata più fatta più gettonata quando faccio le stories e indosso quel particolare oggetto ovvero di chi sono quegli orecchini allora io oggi ne ho indosso un altro paio sempre fatti da lei che avevo acquistato insieme agli altri no le avevo acquistate dopo gli altri li ho presi più tempo prima mentre invece quelli che proprio sono super gettonatissimi per poi li metto spessissimo perché non cambio tanti orecchini non ne ho tantissimi quindi sono sempre gli stessi che girano sono quelli un po' a cerchio con la mezzaluna quelli sono un po' il mio passepartout mi piacciono tantissimo li metto un po' con tutto e ogni volta ricevo tantissimi complimenti allora l'autrice di quegli orecchini e anche di questi che anche questi qui mi piacciono molto sono un po' più grafici un po' più un po' più concettuale un po' più da designer da fotografa concettuale l'autrice si chiama Sara e il marchio si chiama We Are Nodo io ho conosciuto Sara tramite lo shop perché lei ha collaborato nella collezione Bonapti facendo degli orecchini perché lei lavora tanto all'uncinetto quindi lei diciamo che ha due tipologie di prodotto realizza borse e accessori all'uncinetto tra l'altro carinissime super belle con dei colori bellissimi e realizza anche gioielli in argento riciclato o in ottone le sue forme sono bellissime a me piacciono molto sono molto semplici molto minimali lei vive in Inghilterra viva Londra ma ha origini friulane e niente i suoi articoli mi piacciono tantissimo è attentissima alla sostenibilità quindi nella ricerca continua ricerca nei confronti di materiali di utilizzo di materiali magari riciclati aveva fatto tutta una collezione di borse utilizzando un tessuto di canapa antico bellissimo anche nell'attenzione con cui utilizza tutte le cose che utilizza per il packaging insomma Sara sa il fatto suo e ha una collezione molto bella quindi direi che lei soprattutto perché i suoi orecchini hanno spopolato durante tutta la primavera non potevo che citarla un altro brand invece che riguarda l'abbigliamento è relativo anche a un'altra cosa che è un altro delle domande che quando lo indosso mi dite ma bellissimo dove l'hai preso allora sto parlando di un marchio lituano di abiti in lino allora il marchio si chiama Not Perfect Linen è una piccola beh piccola un'azienda che si sta strutturando ha lo shop Suezi ha gestione familiare e realizza capi in lino la qualità dei capi è pazzesca cioè lino è veramente molto molto bello di una qualità molto alta hanno una palette colori fantastica i modelli trovo che siano molto versatili nel senso che si adattano bene a diverse forme del corpo anche come a livello di misure penso che sia abbastanza facile riuscire a capire quale sia la propria misura più adatta in base appunto alla forma del proprio corpo loro è una cosa interessante oltre a utilizzare tutti i lini prodotti lituani perché la lituania è famosissima per la produzione di lino i lini lituani sono famosissimi in tutto in tutto il mondo infatti anche io per lo shop ho scelto dei lini lituani perché la qualità è molto alta ed è molto sono molto buone loro hanno una tradizione antichissima sul lino addirittura hanno una festa dedicata alla raccolta del lino perché era faceva proprio parte principale della loro cultura e il lino è uno dei materiali che viene utilizzato più spesso nei matrimoni negli abiti tradizionali nei matrimoni c'è il lino perché è comunque al centro della loro cultura loro realizzano questi capi e la particolarità è che loro lavorano sul venduto quindi non creano non fanno stock in questo modo riduci tantissimo anche eventuali scarti la buona notizia è questa di contro chiaramente i tempi di produzione sono lunghi quindi voi fate un ordine e lo riceverete all'incirca dopo circa 3-4 settimane diciamo che l'ordine lavorazione ci impiega circa 3 settimane poi c'è la spedizione io avevo già acquistato l'anno scorso il vestito quello giallo che mi vedete indossare spesso lo uso tantissimo l'ho usato tantissimo e quest'anno appunto ho deciso di acquistare un altro ah poi ho acquistato da loro anche una tuta sempre l'anno scorso l'anno scorso avevo preso una tuta pantalonica anche quella la metto un sacco e il vestito giallo e quest'anno invece ho preso quel vestito lì a maniche lunghe perché un punto volevo qualcosa a mezza stagione e poi una camicetta e una cosa che mi piace è il fatto che abbiano dei modelli che sono trasversali quindi non lavorano su collezioni sono modelli che vanno bene sempre classici ma con un tocco in più con dettagli molto interessanti e anche il fatto che comunque lavorino sul venduto e il fatto che tu debba aspettare bene o male un mese prima di ricevere il tuo capo secondo me ti fa ragionare ancora di più sulla necessità di quel capo e quindi lo acquisti solo se effettivamente ne hai bisogno e sai che lo indosserai che lo porterai tanto bene arriviamo visto che abbiamo saltato il bagno arriviamo adesso a un'abitudine una nuova abitudine green poi la finisco perché sta diventando bello lungo questo video parlo tanto come al solito sempre la mia caratteristica è così che ci volete fare una nuova abitudine green che ho preso allora mi sono ripromessa di fare una cosa forse me ne pentirò ma l'ho fatto no allora ho deciso che voglio siccome io ho questa mia grandissima passione per le piante è enorme lo sapete tutti vi faccio una testa così le mie gioie le mattutine di vedere le mie piante sono enormi ho deciso di cercare di siccome nella mia casa c'è ancora dello spazio per delle piante può sembrare impossibile ma c'è credetemi c'è c'è ancora questa esigenza ho deciso di cercare invece di acquistare nuove piante di creare le piante che ho bisogno direttamente da quelle che ho già perché c'è un detto che dice non so che detto sia però l'ho sentito dire spesso non so che origine abbia che quando hai una pianta in realtà hai mille piante perché potenzialmente tu da quella pianta ne puoi ricavare tantissime altre così sto facendo quindi sto moltiplicando le pile sto moltiplicando i potus sto moltiplicando la mia monstera insomma tutto quello che riesco e che so che è possibile moltiplicare io lo sto moltiplicando forse mi sto montando la testa penso di essere una divinità qualcosa di particolare che ha questo dono di moltiplicare però lo sto facendo è molto più semplice di quanto uno possa pensare di base quasi tutte le piante più comuni nei nostri appartamenti si riescono a moltiplicare per talea quindi semplicemente basta tagliare nel punto giusto la pianta metterla nell'acqua in un barattolo non necessariamente trasparente perché appunto io ho fatto delle talee che ho messo nei vasi quelli con le facce d'animale che quindi non ricevono la luce hanno impiegato un po' più tempo a mettere radici però l'hanno fatto infatti le ho trapiantate senza problemi quindi non è necessario che siano dei vasi trasparenti se sono trasparenti ci mettono meno tempo semplicemente quello dopodiché quando vedete che queste piante hanno fatto tante radici quindi non immaginate che appena hai detto una radice ah è pronta la posso trapiantare no deve avere un apparato radicale bello sostanzioso un po' fitto bello forte strutturato a quel punto è il momento di poterle passare nella terra io sto cercando di utilizzare di andare a recuperare in giro vasi in terracotta vecchi che si trovano un po' me li faccio passare da mia mamma un po' li sto cercando in modo tale da riutilizzare quelli lì e stesso discorso anche per i sotto sottovasi sto usando dei piatti che avevo preso come props per fare le foto che però in realtà non uso più quindi utilizzo un po' quelli lì o magari dei piattini sbeccati o magari il classico piattino della tazzina che mi è caduta la tazzina se è rotta la tazzina non c'è più la tazzina utilizzo quel piattino come sottovaso e questo qui dietro che vedete è diventato il mio angolo della propagazione per cui direi che inizio già ad avere un buon bottino cioè non male per aver appena iniziato questa oltre ad essere una buona abitudine green perché non andiamo ad acquistare a continuare ad acquistare piante che vengono comunque da miei allevamenti ma non sono allevamenti sono coltivazioni da coltivazioni che spesso magari vengono da altre parti d'Europa insomma facciamo tutto stiamo facendo tutto in casa aiuta anche a coltivare la nostra pazienza perché comunque ci vuole un po' più di tempo ecco per avere una pianta un po' più grande però dà anche molte più soddisfazioni quindi secondo me è un win-win e lo dice una che di pazienza è famosa per non averne bene io sono felice perché uno non mi sono scelta sono ancora esisto ancora sono ancora allo stato solido non so che faccia abbia ma quello non importa tanto comunque di base siamo un po' così due ho fatto questo video che ci tenevo tanto a fare anche se mi è venuto lunghissimo credo quindi scusate spero la prossima volta di essere un po' più sintetica però sapete che quando parlo di queste cose a me piace parlare spiegare non essere approssimativa ecco questa è un po' la caratteristica mia e quindi la mettiamo sul piatto e basta no fine il video è fatto queste erano le mie preferite le mie cose preferite green della scorsa primavera bene io vi auguro una buona domenica e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video e in settimana sul blog come sempre su instagram un bacio ciao 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 ciao